Allora, è stata una serata, devo dire, piena di sfide e neanche di sorprese, devo dire che è stata una di quelle serate in cui il ruoto da casa ha condizionato molto l'andamento della puntata. Diciamo che, secondo me, ci sono state un paio di uscite giuste e forse un'uscita meno giusta. Diciamo che la Marini era un po' arredata a Polina anche a qualche puntata fa, probabilmente Borghetti meritava di rimanere, se non anche per l'entusiasmo dell'interpretazione e anche per quello che non sta in un gioco. Chiara meritava di rimanere, come ci sono fece Luciano Costagli, probabilmente sarebbe stata la giusta un'uscita di una Barbara De Rossi o un'altra puntata di uscita. Chiara meritava di rimanere, come ci sono state un'uscita di un'uscita di un'uscita di un'uscita.